Partiti. Coupe de Talon e futuro anteriore. Si completano i primi 300 di gara, l'andatura non è piuttosto sostenuta, con copre o passo in vantaggio nei confronti di difendini, quando ora si va ad affrontare la piegata di pista grande, in terza posizione Sagiello, poi in quarta Singapore Black, quinto Golden General, sesto è il grigio Comet Gray. Quindi Red Joe, Coupe de Talon, a seguire vittoria dei Capito Stoccalca, con in coda il gruppo futuro anteriore, cavalli in dirittura d'arrivo, con copre o passo lungo la corda, al suo esterno si mantiene difenditi, poi Sagiello in terza corsia, a largo Golden General, Comet Gray. Quindi Red Joe, Coupe de Talon, quando i cavalli sono ora ai 250 conclusivi, con copre o passo attaccato da difenditi, in mezzo alla pista, Saviello, poi Golden General, Comet Gray, Red Joe per Barchi, vittoria dei, copre o passo, difenditi, lotta serrata, difenditi, copre o passo, poi vittoria dei, a seguire Saviello. Difenditi, copre o passo, difenditi, allargo, numero 12, copre o passo numero 5 all'interno, poi il numero 2, e Saviello numero 9 in linea sul palo.